Due, quaterne! Allora, il Gaff si appresta a solcare nuovamente il palcoscenico, presenta un nuovo lavoro che immagino vi abbia impegnato non poco. Sì, diciamo che dopo dieci mesi di lavoro è passato a provare la commedia, in particolare gli ultimi quattro mesi e mezzo con la compagnia, e i mesi precedenti dedicati alla stesura del testo, perché noi facciamo tutti i testi originali, diciamo che siamo pronti e lunedì debutteremo al Politeama. Ma che commedia è? Farà ridere? Noi ci auguriamo di sì, naturalmente. Allora, noi abbiamo una filosofia. Prima ci dobbiamo divertire noi durante le prove, così che divertendoci riusciremo a contagiare e a portare questo nostro divertimento al pubblico. Solo così la commedia può riuscire. E posso dire che quest'anno veramente ci siamo divertiti, come gli altri anni, forse anche di più. E questa è la garanzia migliore che possiamo dare al pubblico che verrà a vedere la commedia. Come si chiama e che tema tratta, se possiamo dare qualche piccola anticipazione? Allora, il titolo della commedia di quest'anno è Troppa Grazia Sant'Antoni. È una commedia che, posso dire, si svolge nell'ambito di una famiglia. È una famiglia in cui il personaggio principale, Anselmo, è un imprenditore. Però le cose purtroppo non stanno andando bene. L'azienda va male, è inseguito addirittura dai creditori. Le banche addirittura lo vanno a cercare a casa. Praticamente lui sta vivendo una situazione che metterebbe in difficoltà anche qualsiasi, come potrei dire, anche un inguaribile ottimista. Però, nonostante tutto, lui un po' con scaltrezza, un po' anche per fortuna, riesce a sovvertire questa situazione. E poi la storia, bisogna vedere al Politeama, se si vuol capire come andrà a finire. Quindi che giorni aspettate i vostri fans o tutti quelli che vogliono divertirsi con voi? Allora, il botteghino è già aperto, quindi si possono già acquistare i biglietti al Politeama. E le date della commedia sono lunedì, martedì 26, mercoledì 27 e febbraio. Poi replicheremo, sperando che il pubblico ci dia credito, lunedì 4 marzo, sempre al Politeama. Quindi venite tutti al Politeama a vedere Troppa Grazia Sant'Antoni. Troppa Grazia Sant'Antoni!